fate delle domande Maragio è disposto a fare quello che vogliamo lui può dire quello che vogliamo e allora se visto che nessuno fa domande le domande le farà Maragio dice posso farvi qualche domanda? ah si parla del Vecchio Testamento, l'Antico Testamento perché Gesù dopo il Vecchio Testamento ha fatto il Nuovo Testamento? e qual è la differenza tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento? si parla del Vecchio Testamento ha fatto un po' di rumore e questo non lo so tradurre e questo non lo so tradurre e questo non lo so tradurre cosa sto facendo? sto andando verso l'amore o verso le regole? questa è la devozione per Krishna questa è la devozione per Krishna questo è la devozione per Krishna e la devozione per Krishna e la devozione a Krishna dà la via che è solo per andare verso l'amore per Dio per Krishna e ora considerate la seconda faccenda la seconda parte lui disse Gesù io sono il figlio e tu sei mio padre quale è il significato? relazione giusto o sbagliato? sambandha gyan ci sono tre cose da sapere una è la relazione una è la relazione se io non sviluppo una relazione allora non posso avere un sentimento e non posso amare lo potete vedere? se avete una relazione allora potete avere un sentimento e questo passa alla amore e questo porta verso l'amore sì ma volevo chiedere ma come mai Gesù dice io e il padre siamo la stessa cosa? la madre ci chiede perché Gesù dice io e il padre siamo la stessa cosa? sicuramente non è sbagliato non è sbagliato gli amanti gli amanti gli amanti sembrano due ma sono uno ma sono uno non c'è differenza il devoto nella relazione diventa uno diventa uno con Cristo ma il devoto solo se vuoi leggere con il sapere non diventa uno gli amanti possono diventare uno però il devoto che vuole solo avere a che fare con la conoscenza allora lui non diventa uno sono gli amanti che diventano uno fra di loro non avete esperienza della vita questa cosa succede anche nella vita materiale diventate uno diventate uno diventate uno e se non avete amore vivete nella stessa casa vivete nella stessa casa nella stessa stanza nella stessa stanza ma vivete nella stessa stanza perché non c'è l'amore perché non c'è l'amore se non ho amore con Cristo viviamo insieme nel tempio ma siamo in un mondo differente non c'è relazione se io non ho amore per Krishna io posso stare con Krishna nel tempio o da qualche altra parte ma siamo in mondi differenti non c'è relazione I am working for myself and sometimes I care something to show others I am working only for myself praticamente io lavoro solo per me e qualche volta do qualcosina a Krishna but if you have love you don't want to show to others ecco però se uno se nutri del del vero amore non vuoi farlo vedere agli altri diventi uno he give you the seed to understand sambandha is the first thing relation is the first thing lui ti dà il seme per capire che la sambandha ovvero la relazione è la prima cosa per sviluppare un sentimento i sentimenti e l'amore e i sentimenti sono la vita spirituale se non c'è sentimento se non c'è sentimento è solo filosofia è nulla spirituale se non c'è sentimento ma è solo filosofia non è amore non è bhakti è solo vai di bhakti è solo vai di bhakti grazie ci sono quattro vedas ci sono quattro vedas ci sono quattro vedas giusto? rig veda jadur veda sam veda atar veda rig jayur sama ayurveda eccetera tutti dice tutti parlano veda ma nessuno ha le le che sono praticamente fatti, sono tutti regole e regolazioni. Just I give you to understand the example that is easy to understand. If I say some Sanskrit you will not understand. I give you example easy to clear. Prema Bhakti jaha hoite avidya abhinas chaiti. Without Prema Bhakti, avidya means ignorance will never go. What do you do? Senza la Prema Bhakti l'ignoranza non se ne andrà mai. Prema Bhakti, Prema Bhakti is important. Without Prema there is no Bhakti. La Prema Bhakti è importante. Senza Prema non c'è Bhakti. Right? Prem, when there is a love, Prem vuol dire che c'è l'amore. Then devotion happens. If you have no love, you don't want to do anything for that person. If you have a Prem for Krishna, you like to do everything for him. Allo stesso modo se uno ha del Prema per Krishna, Allora lui vuol fare tutto per Krishna. You see only in temple not. You see in everyone Krishna, your lover. E non solo che lo vedete nel tempio, Ma lo vedete in ognuno, in ogni persona che incontrate. Vedete il vostro amante Krishna in ogni persona che incontrate. How he can influence? He creates all, everything. And if you give his thing, he will not become happy. If he creates, all material, everything, what you see, water, milk, and what you see in the world is all his creation. And you want to make him happy with his thing? E lo volete fare felice dandogli queste cose? How he will, how you can make happy? Come fate a farlo felice? You give my this clothes to make me happy. How you can make happy? You have to give other things what you have not. That's too such. What I can give to you to make you happy? What I can do for you? Cosa posso fare per te? This only one point has to fix. E allora fatto questo punto lui la sua misericordia metterà in moto le circostanze in questo mondo per capire attraverso il mio comportamento come incrementare e evolvere, si chiama la Sadhana Bhakti, questo Sadhana è per un solo obiettivo, è solo per te mio caro, questo è il punto, uno può sentire, percepire questa misericordia, lui vi manda il maestro spirituale e il maestro spirituale viene nella nostra vita per aiutarci. E il momento che ce l'ho la mia vita comincia a cambiare. Chi ha la misericordia? Krishna. Krishna stesso agisce nella forma del Guru, certo? Di chi è questa misericordia? Lo dicono gli Shastra, è Krishna stesso che agisce dentro la forma del maestro spirituale. perché ha a che vedere con la loro unità. Perché ha a che vedere con la loro unità. In Sparta, vai lì, questo man sta aspettando per te, vai lì. Dice, quest'uomo, lui ispira il maestro spirituale, cioè questa persona ti aspetta, vai lì. Adesso? Dice, non è che noi… Un disc gracia. Dice, non è che… non è il discepolo che cerca, è il guru che cerca il discepolo. È il guru che cerca il discepolo. Guru Satchi. You got it. You don't use search to find it. It's happened. It's happened. Because of his mercy. And he does not stop here. When we want to see his opulence, he doesn't bother. Then he doesn't see, because we are, we are going to Vishnabhakti. But if you start loving, Prima Bhakti, loving Krishna, you have a desire for this. If you start loving Krishna, you have a desire for this. Again, his mercy is coming. He says, how you will get love? He says, how you will get love? I am, he says, I am also bigger of love. Krishna said. I cannot give you. How you will get love? He says, yes, you can get love. What type of love you want? Motherly love. You want friendly love. What you are searching, he gives you. What you are searching, he gives you. Again, he comes through someone to help you where to go to find this love. And then, Krishna, di nuovo, ritorna impersonato da qualcuno che poi ti aiuta a trovare that love. Because, if you don't know, how you will give to him. Because, if you don't know this love, how do you do it to give it to him, to Krishna? So, who is the Guru? Who teaches you to love? That is the Guru. Then, Radhika is Guru. So, who is the Guru? The Guru is the Guru who teaches you to love you. So, who is the Guru? Radharani. Mother Yasoda is Guru. Mother Yasoda is Guru. Right? Right? Narayan Maharaj, I'm giving you the hidden path of devotion, is a process in our life. We are moving for goal. From so many. I, my life, I say, I was Shiva devotee. I was Shiva devotee in my young age, Hanuman devotee. Guru Maharaj dice, l'ho visto anche nella mia vita, quando ero ragazzo, ero devoto di Shiva, di Hanuman. And when I was child, I am praying to Jesus. E quando ero piccolino, pregavo Gesù. I never, temple was there, but I have no connection there at the time. C'era il tempio di Krishna, ma io non, non ero connesso, non mi interessava. It's honest, I'm not connected. I like to get something from the God, no? So I'm searching for Shiva. God, we are searching for, I search for the God, not for Krishna. I want to become businessman. So I'm searching God. God. I'm searching for the God to get it something. But Shiva, one day when I'm going, Shiva show me that you don't need this, you need this way. Jesus, when I was a small child, he saw that you need God, go and search Shiva and Hanuman. The step goes like this. Then Shiva said, go to Vrindavana, search your spiritual master. and I went maybe thousands of times before, but I cannot understand. From my childhood, I'm going to Vrindavana. but when I see my guru, but when I see my guru, and when his mercy come, because guru, it's actually I was disabled when I was five years old. because he said that. But I forget. Disconnected. When he come, he say, I'm your guru. You are searching for me. mi stai cercando? I'm your guru. Sono io il tuo guru. And the moment, il momento, I got all mercy, il momento, in quel momento, io ho ricevuto tutta la misericordia e la mia vita ha cominciato a cambiare. Understand? Si capisce? Mercy when come, then realization comes. Prima viene la misericordia e dopo segue la realizzazione. And when realization comes, when there is no conflict inside. E quando è che vengono, viene la realizzazione? Quando interiormente non c'è più conflitto. No fighting. Non c'è combattimento. Peaceful. Quando c'è pace. Peace is important for realizzations. La pace è importante per ottenere realizzazione. Prabhupada, lines. Page four. I like very much. Read this. Non ho capito. I li... I versi di... Pagina quattro della Bhagavad Gita di Prabhupada. Grazie. Se leggetelo, piace molto a Guru Maraj. Perché in quella pagina quattro della Bhagavad Gita un writer write one word one time, right? Perché è stata scritta o lo scrittore ha scritto... un bravo scrittore. Lo scrittore. Però ha scritto la... Ma diceva che un bravo scrittore un concetto lo scrive una volta. Invece Prabhupada da qui l'ha detto... Lo scrive sedici volte. Sedici volte. You see this. Guardate... Vedete? Guardatelo. E tutte le sedici volte che scrive parla di relazione. Senza relazione non c'è devozione. Write down this. Se non c'è relazione, non c'è devozione. La relazione rende la tua devozione. Quando avete un amore, quando avete un amore non è che vi serve di sforzarvi di ricordare il nome di quella persona. La mente va a sé, va costantemente verso il vostro amato. Gli occhi guardano sempre l'amato e la bocca dice solo il suo nome. Questa è la natura dell'amore. Se non succedono queste cose, uno non è un amante, un innamorato. E questa è la devozione. Entendete? Simple. What? Practical e simple. Cosa pratica e semplice. With all mercy, what happens is also very good. Dice, è misericordia. Quello che succede è molto buono. And what is going to happen it will be also very good. Ah, quindi, in questa misericordia, quello che succede è sempre molto buono e quello che succederà è buono lo stesso, anche quello. che succederemo. E quindi siamo molto fortunati dal momento nel quale entriamo in questa via. non capito niente. Non capito niente. A qualsiasi livello siamo? in qualsiasi livello siamo. That we have to check. dobbiamo capire a che livello siamo. quello che succederemo in qualsiasi livello. What we are doing nobody will check you. I have to examine. Why not we are examining? because I have nature to examine others. Perché non ci esaminiamo? Perché non ci facciamo l'esame di coscienza? Perché abbiamo la natura a esaminare gli altri. Stop the examination. Smettete di esaminare gli altri. Every moment we have to examine myself where we are standing. What mistake I do? In ogni momento devo esaminare me stesso dove e che livello sto che sbaglio sto facendo. e questo esame svilupperà la realizzazione del seno. Molto semplice. You check?